Sopra la galleria Umberto dove si vede queste strutture maestose bellissime di metallo di fine secolo e poi inizia a sentire una canzone, Reginella, questa musica che si diffonde, questo canto bellissimo Alberto dice ma da dove viene questa voce, questa musica? Allora è vicino a uno di quei, chiamiamoli diciamo così, fori, tombini e da lì si accorge che c'è sotto il Salone Margherita il Salone Margherita dove c'è la cantante, Serenotieri che sta cantando, Reginella E quindi ecco lì che in qualche modo il grande divulgatore, Alberto che si mescola alla grande canzone napoletana Chanteuse in Francia, qui venivano chiamate Chantose Dall'alto della Certosa di San Martino lo sguardo spazia sulla città la luce del tramonto accende il panorama, tutto il golfo è ai nostri piedi Dall'alto della Certosa di San Martino lo sguardo spazia la città